Rete, Rete ha segnato il pareggio 2 a 2 Alessandro Ramundi, Alessandro Ramundi ha pareggiato con il suo gol, stavamo perdendo 2 a 1. Alessandro Ramundi numero 11 ha realizzato il pareggio 2 a 2 fino adesso, primo tempo di questa gara tra la Virtus Castelfrentano e Miglianico Calcio, prima gara di andata del campionato giovanissimi Girone Chieti. C'è la ripresa, già c'è stata la ripresa del gioco da parte del direttore di gara, prende la palla Riccardo, Riccardo ad Alessandro che ripassa a Riccardo, Riccardo! Niente, rincorre Riccardo, il pallone però che si sta portando verso la bandiera, no, l'ha ripreso! Ah, parata, parata del portiere, distinto, distinto, ecco riprende il pallone, ecco Manuele a Nicolò indietro, Manuele sempre col pallone passa al capitano Cuniberti, ecco! E' uscito Daniel di piede perché è fuori dall'aria, ecco una bella gara tra due belle compagini.